E bella a tutti ragazzi, oggi in questo secondo video in reazione ho mandato da ReddyGamer Oggi ragazzi andiamo a fare questo doppiaggio di Ludothorn di non abbracciarmi, ho paura 1 Adesso facciamo la reazione, vediamo di che si tratta Ultima cosa ragazzi, questo video non l'ho mai visto, quindi vediamo com'è Da dove prendi le idee? Cos'è? Ragazzi sapete cosa è sto tizio, ma scrivetelo nei commenti Penso sempre creativamente, ora guardate l'arancia qui, cosa vedete? Ditelo a me È solo un'arancia normale Forse è per te, ma non per me, vedo una faccia buffa, che sorride e cammina Non riesco a capire Perché mi mando queste cose? Perché? Vabbè andiamo avanti Che non pensi con creatività Guarda qua i miei capelli Vengo! Li uso un po' per esprimermi Sembra abbastanza noioso Li uso un po' per esprimermi Ora, se guardate le nuvole in cielo, non le trovate divertenti? No! Forza, provate di nuovo! Vedo un capello, un gatto un po' bello Vedo un uomo con la barca da bel solitano Ora vedo un cane, ora vedo l'ane, una scala in legno con il troncola State capendo! Ragazzi, questo video è troppo e troppo imbalanzante Vi provo di lasciare almeno un tuoi like per questo video Vedendo questo video Sapendo lo vedo, sì! Usa la mente per divertirti Penserò a un clown e lo disegnerò Ehi amico, stai esagerando un po' Ecco un'altra idea Sì? Per come essere più creativi Andate a prendere foglie rametti E iscrivete il colore preferito Blu Rosso Verde Verde non è un colore creativo C'è anche altro da dover sapere Prima di liberare la fantasia Ascoltate il cuore e anche la pioggia Ascoltate le voci nella testa Dai ragazzi, siate creativi! Siate creativi! Vabbè Eh... Poi? Ah Eh vabbè Ragazzi, il video reazione finisce qui Sono stato veramente sorpreso di questo video È un pochino imbarazzante per me Però Dai È stato un buon video Quindi Se volete mandare un altro video Non spero di questo però Un video del genere di questo Un altro pochino Diciamo più bello E noi ci vediamo con un prossimo video Bye ragazzi! Grazie a tutti!